Giorno 4 Giorno 4 Big Island 26 febbraio ultimo giorno in quest'isola domani andiamo a Oahu per la saltezza Onolulu e poi da lì si vede spiaggia possibilmente più spiagge possibili se il tempo permette visto che è comunque abbastanza grigio cosa facciamo oggi? oggi 4 miglia 8 miglia di camminata per andare a vedere cosa? la lava quindi ieri sera abbiamo visto i vulcani stamattina andiamo a vedere questa lava che cade nell'oceano se siamo fortunati e poi dopo pranzo ci mette in viaggio verso Kona domani mattina prendiamo l'aereo e ce ne andiamo a Onolulu tu devi dire qualcos'altro? no, speriamo che ci saranno le biciclette da affittare la lava Wow Come on Davide, come on Cavier, cosa sta succedendo? Raccontaci Siamo su Marte, siamo appena atterrato Aloha Aloha Allora, senza arca Aloha 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 Aloha, che faccia Mi sta servendo il drone in l'aria, cosa sta succedendo No way Sembra un po' vicini Mi portavano una roccia della lava a casa No way Is that real? Yeah What is it? Chameleon What? Is that yours? Is that yours or? It is What? My dad We have two Really? My dad is not going to make it It's crazy It is not Can I touch it? Yeah My dad is going to die No way Oh, I see it I see the poop dad Yeah, the poop dad La voi un camaleon Yeah Yeah, I think in Australia they're going to let us in Con un camaleonte Love is burning Love is burning Love is burning My son Love is burning Do one 田